Rendere sempre più efficiente lo scambio di informazioni tra la magistratura penale e quella contabile puntando ad una maggiore repressione dei reati. E questo è l'obiettivo del protocollo sottoscritto ieri pomeriggio dalla Procura di Teramo e dalla Procura regionale della Corte dei Conti, a firmare il documento che arriva dopo quelli già sottoscritti dalla Procura teramana con IMSS e INAIL, il procuratore capo Antonio Guerriero e il procuratore regionale della Corte dei Conti in Abruzzo, Maurizio Stanco. La studiagia serve a creare un rapporto di collaborazione tra due uffici che sono preposti entrambi al controllo degli atti pubblici con finalità diverse, perché noi lo guardiamo sotto l'aspetto penale, l'oro della responsabilità amministrativa. Finalizzato a questo controllo delle risorse pubbliche noi sappiamo come talvolta queste risorse pubbliche non vengono spese bene. Un concreto riferimento è a tutte le indagini penali che in realtà possono confluire nell'ambito della responsabilità amministrativa, allora quando si verifica un danno erariale e vi è quindi la necessità di perseguire i responsabili e quindi con il risarcimento in favore degli enti che sono stati danneggiati.